Un incontro a 360 gradi, quello tra Monsignor Malvestiti e gli studenti dell'Istituto Merli Villa Igea di Lodi, che hanno rivolto al Vescovo le loro domande su fede, aborto, eutanasia, unioni omosessuali e dialogo interreligioso. Monsignor Malvestiti ha raccontato loro la sua vocazione, il periodo di discernimento, le incertezze, fino all'accettazione piena interiore delle parole di Gesù. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. C'è qualcuno che vi sta cercando, ha detto il Vescovo di Lodi ai giovani, e vi auguro di poterlo incontrare nella fatica che questo comporta. Alla domanda di Marco su perché la fede oggi sia diventata un fatto privato da tenere nascosto, il Vescovo ha spiegato come la fede sia un dono, un qualcosa di personale, ma da comunicare, mai imporre, ma proporre agli altri, da non tenere legato nella vita privata, liberi nel rispetto degli altri, di dire pubblicamente quello in cui si crede, di riunirsi, favorendo il bene comune. Monsignor Malvestiti ha poi risposto a Micaela su aborto, eutanasia e fecondazione assistita, spiegando come tutto debba essere letto alla luce della parola amore, che la vita è intangibile, che un figlio è un dono e non un diritto. E a Ines, riguardo alle unioni omosessuali, ha ricordato che ci sono alcuni caratteri inalienabili, l'uomo e la donna, che nell'amore incontrano una nuova vita. E ha parlato del rispetto che la Chiesa dimostra per coloro che avvertono di avere un altro orientamento affettivo. No quindi all'omofobia, sia la tutela dei diritti, ma no anche all'esaltazione a scapito della comunità formata da uomini e donne, che per amore accolgono la vita. L'incontro con il Vescovo di Lodi si è poi concluso con la domanda di una ragazza indiana Sikh su come possano convivere religioni diverse. La religione cristiana, ha risposto Monsignor Malvestiti, rispetta tutte le religioni, promuovendo il confronto amichevole e il rispetto reciproco.